L'Eurobike 2021 è anche accessorista e qui siamo davanti allo stand di Basile, che è un'azienda che si è fatta conoscere anni fa per una raccolta di beneficenza molto particolare. Praticamente a 2 euro, un'offerta libera, forniva delle sacchettine molto belle, il cui ricavato andava a sostenere il World Bicycle Relief, che forniva biciclette in Africa a Medici, comunque persone che devono muoversi. È un'azienda anche molto attenta all'ambiente, quello che vedete qui sono delle borse di bici da città, sono realizzate interamente in materiale riciclato, quindi anche amiche dell'ambiente. Guardate l'effetto completo della linea, molto bello, chiaramente è un utilizzo per la bici da città, per gli spostamenti tutti i giorni, ci sono queste qui a fiori, ma ci sono anche delle combinazioni più tecniche e anche più sovrie. Però è uno degli stand che attira maggiormente attenzione qui a Predator Channel.